Vicinissima alla cittadina di Finale Ligure, circondata da pareti di rocce, si trova la spiaggia di Varigotti che si presenta come un lungo arenile sabbioso bagnato da acque limpide. Si può raggiungere sia in auto che in barca, ma la tappa d'obbligo è sicuramente la visita alla Torre dei Saraceni. La Baia dei Saraceni è sicuramente una delle spiagge più belle della riviera Ligure di Ponente. Arrivando dal mare poi l'impatto è veramente spettacolare, così com'è racchiusa dalle montagne. Alla scoperta della Liguria su ZenaZone